Un saluto a tutti e bentornati su Zanat Factor Eccoci su Final Fantasy XV Nel precedente video abbiamo preso la nostra terza arma ancestrale e abbiamo sblocchato le abilità ancestrali Tornati qua alle Stallion c'è stato Noctis che ha avuto un'altra visione che l'ha avuta un po' nel precedente video e sembrano tutte collegate a quel meteorite là in mezzo alla zona di Yusuke quindi il tipo sospetto del traghetto si è offerto di accompagnarci per vedere di risolvere la questione anche se io non mi fido però la storia ci dice di seguirlo vediamo un po' cosa succede Alla bene Allow me to do the honor of assigning your driver I choose you Love it Fine by me You drive your car and I drive mine with that decided let us be off e chi sono stessi Andrei just to be clear this isn't a race it is a chase you're not to pass me lose sight of me and you'll lose your way and no tailgating an accident would spoil the trip All right, all right. It's hit the road already. As you wish. Drive safely now. First Galden and then Lystalim. What a coincidence, huh? Way too convenient to be a coincidence. I reckon he's following us around. But to what end? That question bothers me deeply, as does his origin. It's hard for me to picture that guy in the Empire. But it's even harder to imagine him as a Lucian. I'd sooner not rely on him. But he may be our only way into the disc of Kothis. What's his highness's opinion of this, Arden? Don't really have one. He's nothing more than a creepy old dude to me. You hit the nail on the head right there. Well, that's why we came up with a plan. Gotta watch our backs the whole way. So, any havens along the way? Oh, somebody wants to camp. Somebody else wants a proper bed. Nice, firm ground. Much better for your back. Can't we at least make it a caravan? I don't get why you like camping so much. I don't want to be at least one with nature. What's not to like? Now in the wild there are no rules to... What say we call her today here? What say we continue on to Kothis? The Arkham's not going anywhere? Neither are we under your stewardship. So we make camp. With Arden. Hell no. Might as well get the tent up. Oh, I'm afraid I've never really been one for the outdoors. I shall put the bill. So let us stay at the caravan over yonder. I love it. I'm all sticky and gross. Hmm. That's so? My blood is true. I hope she's okay. Wherever she's headed. What the diavolo succede? Please, set your heart to rest. Ah, cura la gente. I shall do what I can to ease your suffering. Lady... Freya... Oh... Oh... Blessed stars of life and light Deliver us from darkness plight. C'è una cosa che vogliamo fare per ora, ma credo che la rilieffa arriverà in un paio di giorni. È un miracolo. Grazie, Lady Lunafreya. Oh, Lady Lunafreya. I left it dawn to come see you. You must be exhausted. A fair bit, but more grateful than anything. Let us begin at once. We should have done more, like taking her in. Damn right, she could have bunked at my place. Or mine. I'm sure it's Mrs. would understand. Porcelli. Don't think being married will give you an excuse not to work out. That came out of nowhere. You can't just let yourself go with the eyes of the world on you. Eh, I don't know about that. Good morning to you. Hmm. I should warn you. We're about to pass the point of no return. I trust you're not having any second thoughts. I'll be in there. Whoever thought of tapping into the meteor's power was a genius. Can you even go near that thing? They harvest fragments found nearby. Pieces that broke off when the meteor fell. Almost fell, I should say. But the Arkian caught it. And he's still there, holding the thing up. Guess he never misses leg day. Or any day, for that matter. His unceasing toil and the meteor's might form the tenets of worship for the locals of Disky. Makes you wonder what it's like, down there at his feet. Hey, Ignis. How's it feel being away from the wheel? Positively frightening. What are you saying? That I'm no stranger to his highness's driving habits. Appreciate the confidence. Read a book. It'll take your mind. I'd rather keep my eyes on the rope. With you. Better not be a setup. Have I given you reason to doubt me? You don't really inspire confidence. Yeah. No. Hello. It's me. Be so kind as to open up. Wow. That worked? But I may not look like mine, but I do have some influence. Aren't you glad we came together? Your audience with Divinity lies ahead. You're leaving? I dropped you with the Archean's open door. And with that, bid you farewell. I'm going to go. Let's see. These are things of the empire, but... I'm sure we never met that one again. Wow. A little harsh there, don't you think? The guy really knew his stuff about nursery rhymes. Yeah. Nothing creepy about that. Come bella stradina. So we keep going this way. Then we'll find out what the empire is up to. Vabbè. No, ci siamo, ragazzi. Is that what I think it is? Didn't expect to find a royal tomb here. Would be a shame not to grab that power. Eh, highness. Let's grab it and go. Ooh. Prendi. Una bella stradina. Siamo a quattro, ragazzi. Ora? Here we go again! This one is huge. Get away! Quickly! Knocked! I got you! Prendi yourself up. Oh merda Ok grosso sei grosso Capisco niente C'è Archeon? Sembra che ci abbiamo chiesto il grande Ma c'è un po' che c'è un po' che c'è Ma cosa? Noct, tu sei bene? Grazie a tutti che sei sicuro C'è un po' che c'è un po' che c'è? Non, ma c'è un po' che c'è un po' che c'è E' un po' che c'è un po' che c'è E tu hai cercano di andare Molto bene, ci siamo cercano di andare Ora, tu due! Cosa? Stai a guardarci? Ok Non lasciate a guardare Chiunque Ehi, qui Non c'è bisogno di essere Riadualmente Non c'è tempo per restare Anche Oggi Devi farlo Eccolo Questa è la prima Per essere Stai Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è A volte, vado a riuscire la helicrossa Ehi, Titan! Qual'è la grande idea? Salvati, arrivi al solito Andiamo al solito Molto! Calma! Andiamo così veloce che posso Corri! Un gladio mitico Che cosa vuoi? Benvenuti Che cosa vuoi parlare? Anche io Grazie le sensazioni mutuelli Andiamo Per riuscire Per riuscire la 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 Siamo Per riuscire la Con la vita E' come qui È sempre così Ho portato il mio obiettivo e prendo la propria. Quando non riesci a concentrare, lo riesco a te. È il mio lavoro. Quindi mi faccio, ok? Ok. Va bene... Bene. Scusate, ma ho dovuto uscire. Vieni... E ricordi... Non riuscire in avanti, proprio. Ehi, Gladio... Il tuo padre... Sono grato per lui. Solo facendo il suo lavoro. Ignis... Tu è sicuro? Bene, ascolti, le truppe imperiali... Ho scoperto. Ma sembra che stiamo a avere una compagnia imperiale. Stiamo a riuscire in qui. Non! Mercia! E' andato. E beh... Siamo qua davanti a questo titano. Vediamo cosa vuole. Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Sono qui! Cosa vuoi che vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma sto è stronzo allora. Bastardo! Sei serioso? Forza! Fatti sotto! Vai! Notis! Oh! Bravo! Ancora! E va bene! Minchia! E' un po' 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 Che cacchio vuole da noi questo? Corri! Non ti devi fermare! Notis! Non ti devi fermare! No, 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 no! Gladio? Eh, va bene! No! Vabbè la figa! Devo difendermi 50 metri prima! No! Difendo 50 km prima! E' andata benissimo. E' andata benissimo. Grande Noctis. Oh, ti ho fregato, ti ho fregato? Mi hanno detto che ti ho fregato. Ah no, no, questo l'ho sentito. Ah, ti ho fregato? Scusate. Che cazzo? Che stanno facendo questi? Ci stanno aiutando? Ah! Dai, ti faccio male. Uff. Troppo grosso per noi! Ah, f***lo. Guarda! Per aver invocato la panoplia, premia liberiata da impito ancestrale. Siamo tutti qui. Allora, facciamoci. Andiamo, ragazzi. Oh, sì. Siamo pronti? Eh, abbiamo un po' di male che abbiamo fatto, dai. Ne vuoi ancora? Allora, ne vuoi ancora? Siamo percibendo il nostro certo? UZZO! UZZO! Uh huh? Le buchi di noi. Dvenidos noi. Deguvi cosa fare. UZZO! Aspettare noi interessanti! Oh, dai. VLATIO! UZZO! Devo colpire il titano Arroca troia Che botta Basta farmi male Basta farmi male Colpire con Criora Oh C'è andata bene ragazzi Che è capitata la Criora Con la magia Che avevo già io Te la spacco sta mano io Te la spacco Adesso Ora Come la metti Oh che tavolo C'è He's winding up To the big one That was Luna You smoke with her That's why Viene 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 L'Empire Ora Ho piovuto ora Eccolo qui Viene Ah Abbiamo preso la vocazione Ah abbiamo preso la vocazione C'è 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 No, la regalia! Ci hanno incolato la regalia! La regalia! Poi, potremmo potremmo aiutare a Arden per aiutare ancora una volta, certo? La regalia imperiale. Il rappresenta un problema, non una soluzione. Quindi, dove ci resta noi? Strader. 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 Andiamo. Noi, vai! Gantiana! Scusami, o re del Ponte. Strader. 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 L'Aqua? 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 Grazie a Luna che mi sono ok e non dovrà aspettare molto più lungo. Siamo insieme in breve. La cristalza era donata a la gente, che potremmo sapere la prosperità. se il cristal è belongingi a tutti come come solo Lucis ha usato il uso? i rei di Lucis non solo usano il cristal ma anche proteggono wait so mio padre è guardando il? sì non ho capito per riconoscere il king of light è la chiamata di cristal e per mantenere il cristal siccome il giorno che falle a la line di Lucis e io sono la chiamata sì solo il vero king anointed da la cristal può purgare la star di il scurge you credo che posso fare questo? come oracle i vedo lo che è la chiamata è la oracle's calling allora penso che posso fare questo non ti senti 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 ma poi è più sgamata di tutti secondo me secondo me per seguire le parole è per seguire il passato inizio legge capire èpra la scuola la luce potrà andare il king La Sra. Lunafreya ha fatto bene per mantenere il ruolo e i piedi. Alla cosa dobbiamo fare è usare Altissia. Questo è il passaggio della demo di Diuskia. Un'arbera scelta. È solo il mio lavoro. L'Ivira ha installato. Allora, inoltre... Andiamo all'esterno. Un altro giorno, un altro Deity. Anzi, la più bella. È davvero scenografica. Spero che anche le prossime siano così, anche meglio. Questo gioco mi sta piacendo davvero un casino. Ho passato già più di 20 ore. Beh ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo vedremo di andare a prendere queste pietre runiche per prendere la benedizione di Hiram. Spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e al prossimo video di Final Fantasy XV.